Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Altgabergio, sono qui in questo nuovo commentario, oggi su cui con il video su come costruire l'arco del lupo su una mappa der Heisendracka, anche questo forse è uno degli archi migliori, secondo me il secondo migliore dopo appunto quello del fulmine, e anche questo è abbastanza semplice da costruire. Come al solito dovete aver prima fatto l'arco di base Ira degli Antichi, avete il tutorial in descrizione se per caso qualcuno non sapesse come si fa. Per iniziare questo arco dobbiamo per prima cosa trovare 4 dipinti, questi si scambiano per la mappa e dovremo premerli in un certo ordine preciso, che comunque è sempre lo stesso per ogni partita. Quindi l'unica cosa è trovare appunto tutti i dipinti, le 4 posizioni ve le sto facendo vedere adesso, uno era qua vicino alla corrente, l'altro si trova qua nella torre dell'orologio, e il terzo si trova qua nei laboratori sulle scale a destra, proprio davanti, e l'ultimo si trova qua sotto la piazza principale aprendo questa porta. Una volta che li avete trovati tutti dovete premerli nel giusto ordine, quindi questo è il primo con il cavaliere e i due lupi al suo fianco, il secondo è questo cavaliere medievale con lo stendardo, il terzo è questa specie di castello distrutto con sopra anche Cthulhu, e il quarto e ultimo invece è quello con appunto il cavaliere che invece è morto. Una volta che li avete premuti tutti potete recarvi qui sotto alla piramide e vi darà il vostro arco spezzato, quindi l'inizio della vostra quest. Il prossimo passaggio è molto molto semplice, basterà recarvi qui giù nella zona del razzo e sparare contro quello stendardo, io ho sbagliato un po' di volte perché era appunto la prima volta che facevo quest'arco, però è abbastanza semplice. Una volta che l'avete colpito scenderà questa specie di teschio illuminato, voi aspettate appunto che scenda, dopodiché ci interagite col tasto X o quadrato. Avete completato così anche questo step. Successivamente dovete recarvi nuovamente alla piramide e interagire con la cassa in cui si trovano appunto i due lupi, che sarebbe appunto la cassa di questo arco. A questo punto apparirà il fantasma del lupo e voi dovete seguirlo per la mappa. È un po' lento ed è un po' paloso seguirlo, però avete anche appunto i passi illuminati, quindi non è difficile seguirlo, anche perché il percorso è sempre lo stesso per ogni partita, quindi se già lo sapete non avete bisogno di seguirlo ogni volta, ma sapete già dove andrà. Si cercherà per la prima volta nella piazza principale e qui si fermerà, diciamo, indicandovi un punto per terra. A questo punto ci sono delle ossa che devono uscire fuori, perciò voi dovete uccidere gli zombie qui vicino per appunto farle uscire, il lupo starà lì finché appunto non farete questo passaggio. A questo punto perciò dovete uccidere circa 10-15 zombie vicino a queste ossa. Una volta che le avete uccisi abbastanza, il lupo ci andrà vicino e le scaverà. Dopodiché voi potrete premerci X e potete andare invece alla zona successiva, perché questo passaggio andrà ripetuto altre due volte. Questa era la prima zona, dopo aver premuto X appunto, il lupo continuerà a spostarsi e questa volta si arricchierà vicino alla freestroom, dove è diciamo il simbolo del fuoco per fare l'arco del fuoco appunto. Questa zona dovremmo appunto ripetere sempre lo stesso passaggio, perciò aspettiamo che il lupo vada nella zona e ci indichi dove si trova il mucchio di ossa in cui dobbiamo uccidere appunto gli zombie. Adesso appunto uccidiamo qualche zombie e aspettiamo che il lupo di nuovo scavi lì. Proviamo di nuovo X e passiamo adesso invece alla zona successiva, ovvero la terza. Questa è la zona, è sotto la piramide ed è fortunatamente l'ultima. Perciò come al solito aspettiamo che il lupo faccia il suo percorso e lo seguiamo. Questa zona, la piramide davanti al paca punch è l'ultima, perciò una volta appunto uccisi i soliti 10-15 zombie qui davanti, il lupo come al solito scaverà, noi premeremo X, dopodiché si andrà a reccare vicino a questa tomba che dovrebbe essere più o meno la tomba del suo padrone. A questo punto dovete aspettare diciamo la gravità bassa in questa zona e sparare contro l'emblema dei due lupi. Mi raccomando l'emblema dei due lupi e non il buco perché io più volte ho sbagliato. Dopodiché si formerà questa specie di piattaforma, noi ci andremo sopra e premeremo X qui davanti. Tireranno quindi la freccia ricostruita che ci permetterà di costruire il nostro arco definitivamente, perciò il solito passaggio è di inserire la freccia dentro la sua casa specifica e uccidere un tot di zombie qui davanti. Come al solito vi consiglio di fare questo passaggio a round più basso possibile, anche perché questo arco appunto è molto facile, l'unica palla è uccidere gli zombie dove ci indica il lupo, l'unica cosa un pochino che ci vuole più tempo, però per il resto è molto molto semplice. Ciao ragazzi, come già detto questo è un degli archi più forti, anche forse uno dei più belli anche per la storia appunto che c'è dietro di questo lupo che è abbastanza simpatica. Beh ragazzi, spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi sia stato utile, vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commentino, a iscrivervi al canale e in un'unica pan sotto ci vediamo in prossimo video, un abbraccio, hala.